Non sono qui per distruggere, voglio che il mio intervento sia un passo positivo, quindi non voglio togliere la potenziale funzionalità del cartello, non voglio neanche rovinarlo materialmente, quindi uso delle adesive che si possono togliere e cerco di lavorare in tema, un'ottima ricerca per un artista, cercare di arrivare al segno più semplice possibile per dire qualcosa e in realtà nella linea dell'artista visiva. Quindi Romino Nero, riprendendo quella stessa estetica, rimango in stile e in contenuto. Parliamo dei divieti, quindi io mi metto a parlare dei divieti. Sul divieto d'accesso Romino che prova a liberarsi del divieto, il poliziotto innamorato del divieto, i cartelli sadali e in particolare i divieti sono il simbolo visivo per eccellenza dell'autorità, dell'autorità che non si discute. E questo per me non è accettabile, nel senso che non siamo qui per obbedire a nessuno. Siamo qui per cercare di migliorare la propria condizione e quella di tutti. Quindi di usare le nostre capacità che sono la riflessione. C'è un problema, riflettiamo questo problema e cerchiamo la soluzione. Se invece tu mi dici c'è un problema e tu devi fare così, io non posso accettarlo. Quindi è una rimessa in questione di questo meccanismo, della legalità intesa come un valore assoluto, al quale proprio non posso accettare. Non maggiore imposizione ma invece maggiore libertà, che vuol dire maggiore responsabilità, maggiore consapevolezza. L'umorismo serve a far passare tante cose, c'è un modo anche per digerire certi rospi, certe difficoltà. E aiuta a toccare poi il pubblico. Prima li fai ridere e eventualmente dopo si si apre più volentieri a qualcosa, qualcosa di più profondo. Ci vuole qualità. Ecco, questo sicuramente mi costa un pochino di tempo e di fatiche, però forse sarò un idealista, un sognatore, ma credo che la cosa più importante oltre alla provocazione è la qualità. Se tu pensi ai talenti che ogni persona ha, e ogni persona ha dei talenti, sfruttare quei propri talenti per una vera partecipazione sociale è ben altro che andare a votare. Quindi poter partecipare, poter fare senza che qualcuno ti dica «No, tu questo non lo puoi fare, perché? Se invece quello che sto facendo fa bene». L'arte è rinvenzione, è rimessa in questione costante. E quindi ha bisogno di spazi liberi, di spazi aperti. Per questo forse l'arte oggi in Italia, ma anche forse nel mondo, sarà secondo me quello della street art. L'unico luogo dove ognuno può buttare giù quello che c'ha da buttare giù, veramente, senza filtri. Come artigiano, come artista ho disegnato tanto, mi ritrovo ad avere un mestiere in mano, però a non avere un pubblico. Cioè se tu non sei, ora mi perderete la parola, ma non ne trovo migliore, un leccaculo, da galleristi o istituzione tu non esisti. E siccome non lo sono per essere stato educato in un altro modo, mi rimaneva la strada. Ma se tu non entri dentro dei meccanismi preconfezionati, tu non arrivi a nessuna parte. Mettere l'arte come un attrezzo di lavoro sociale, ecco, questa è una cosa molto bella. Penso che il problema del potere, per usare un termine che comunque è quello del caso, è la tendenza a sedersi. Cioè nel senso, se io sono al potere, non ho nessun motivo per cambiare le cose. Anzi, essendo arrivato nella posizione più confortevole, non devo cambiare nulla. Quindi penso che il lavoro che possiamo cercare di fare è di mettere il potere in condizione di scomodità, per costringerlo a fare i sforzi che dovrebbe fare. Grazie. Grazie.